Vivo Vivo Amore Vittuale Punturi Vivo Vivo Amore Vittuale Punturi Ciao a tutti amici di Vivo Umbria, sono Paolo Brancaleoni e sono qui per presentarvi il mio ultimo CD Memorie d'inizio millennio 2.0 un lavoro nato in Umbria, scritto e pensato in Umbria è stato registrato alla Lago Records da Federico Marcantoni di Castiglion del Lago e reca all'interno anche molti musicisti Umbri, ma non solo Umbri siccome è un compleanno per festeggiare i vent'anni dall'uscita del mio primo libro CD Memorie di fine millennio ho voluto invitare tanti amici che ho incontrato in questi vent'anni tra cui ci sono Neri Marco Re, Marino Severini di Gang, Paolo Benveniù, Gabriele Mirabassi, Alberto Fortis e tantissimi altri che scoprirete piano piano nelle tracce di questo lavoro è un lavoro che ha richiesto molto tempo, però alla fine ha dato anche tante soddisfazioni si può trovare anche chiaramente online, nelle varie piattaforme online però il suggerimento che io do è di comprare la coppia fisica perché reca anche un libretto dove all'interno ci sono tante storie tanti racconti delle collaborazioni con questi personaggi che ho citato e tanti altri e Giovanni Lindo Ferretti suggerisce di avere anche il cofanetto che reca anche il libro oltre ai due CD e dice che non bisogna dare ascolto solo ai nuovi media secondo me l'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo, dicono l'uomo potenziato, perfezionato, robotizzato in protesi, innesti prevenzione e controllo al momento l'intelligenza artificiale è impegnata con la scuola guida le funzioni ludiche sono già state acquisite a seguire quelle assistenziali, educative, poi le taumaturgiche e farà miracoli e noi l'adoreremo e farà miracoli e noi l'adoreremo la scuola guida